Senti! Buonasera! Grazie per avermi invitato, io sono un archeologo che si occupa di un'antica civiltà, la civiltà tuscolana. Che erano i tuscolani? I tuscolani erano proprio molto antico e erano dominati da una regina. E come si chiamava la regina dei tuscolani? Tuscolana! Perché non avevano nessuna fantasia. Di questo popolo ci rimane un unico reperto, la stele della regina tuscolana. Questa è la stele, si vede che ho fatto l'istituto d'arte, non è vero? E inciso abbiamo... Tu-sco-la-na. È buona, non c'è altro. Malgrado abbiamo solo questi pochi di tonghi, noi abbiamo tutte le combinazioni della lingua tuscolana. Vediamo un sostantivo. A-sco-la-na. Che significa? Oliva! Ci sono dei ripetenti! Bene! Ci saranno a divertirsi questa sera! Bravi, bravi! Spedizione! Spedizione, come si dice? T-N-T! Lettera, come si dice lettera? Scatola! Spedizione arrivata in tempo, nessuno lo sa? Culo! Va bene? E passiamo ai pronomi personali. Tu! Che cosa significa tu? Tu cosa vuoi che significhi? Io? N-N-N-T! Egli? Su! Noi! N-N-N-N-N-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- SU-S beardi fricolano! e vi insegno anche due verbi il verbo avere ah! così un po' secca come me il verbo essere ecco il verbo essere non l'ho mai trovato era un suono gutturale che loro si permandavano di madre in figlia e noi archeologi pensiamo che questo suono gutturale fosse che indicherebbe a fare un aggettivo bella tosca allora crediamo a questa bella signora con i bassi in prima fila traduca, io sono bella non si preoccupi tanto la fidanzata alla congiuntivite vada quindi? io lei lo lasci questa sera Calpugnetti, lei è comunista no? no? tosca noi siamo bionde non faccia finta di niente noi siamo bionde come tradurà signora lei deve dimostrare che gli acidi di quella tinta non sono penetrati all'interno il cervello è salvo il cervello è salvo allora guardi la tele non guardi l'ipotenusa allora cosa risponde? noi siamo suggeriscono i 50 lei suggeriscono i 50 lei diffidente allora chi dice non ho? chi dice non ho? no? è un'interrogativa il bebo è il primo posto quindi? no nene bionda castanas plurale fai l'amore per la pidella? no e chi se ne fredda traduci allora fare l'amore scocon scocon è un'interrogativa il bebo è il primo posto e quindi? scocon e secondo te qual è la mia risposta? quale può essere la mia risposta? no è un'irregolare lo devi coniugare guarda nü scocon ti scocon ti si scocon si nü nü scocon nü ti ti scocon ti ti si scocon su no grazie ciao grazie